Buongiorno Non ero un professore l'anno scorso Non sono neanche uno stupido Adesso ho giocato troppo tempo Per perdermi pochezze del genere So che c'è qualcosa da mettere a posto Lo sanno anche i giocatori Perché qualche cosina che non va c'è Però cerchiamo di metterlo Nell'ordine dei lavori del giorno Senza tanti problemi Carenze tra difese e centrocampo? Sì, tanto più adesso Con cuffe e donati squalificati Una anche in attacco Con cutolo infortunato Fermo per tre settimane Ma su tutta la rosa Si muovono veloci gli occhi del mister Che tiene ferma la barra del timone E non si scompone per le critiche Lo sa che c'è stato subito Che ha urlato crisi, crisi Qual è la sua risposta? In questo momento qua Viene vissuto tutto con scetticismo E con amarezza Perché si dà per obbligatorio Per scontato Che noi dobbiamo arrivare Alla Serie A diretti Ognuno può pensare a quello che crede Critici sistemati per ora almeno C'è da affrontare il podio della B Prima Sassuolo La settimana prossima al Torino Ma il Padova è tuttora quarto Assolutamente Sono contentissimo dei miei giocatori So anche che sta a mettere fuori da loro Il 110% della loro qualità Se alla fine non ci riuscirò Allora avrò sbagliato Alla fine però